Dopo una lunga e dura battaglia iniziata a maggio scorso, RT Calabria vince il Consiglio di Stato che ne riconosce le ragioni e mantiene il canale 14 sul digitale terrestre. E' forte la soddisfazione del nostro editore della C-Network, Domenico Maduli, che da subito si è schierato accanto alla famiglia De Pietro e che oggi dichiara. Ha donato formulo le mie congratulazioni e del nostro network, fermamente convinti che in questa terra sarà sempre più difficile vincere per tutti quelli che non hanno i titoli per operare all'interno delle regole. Ringrazio tutti quelli che sono stati vicini, come primo Domenico Maduli perché tu sei qua grazie a lui e ti ha mandato lui che mi ha chiamato e ha voluto che io facessi e rilasciassi un'intervista che nella mia vita forse è la seconda, visto che in televisione non sono mai andato e non ci sono stato perché sono stato sempre dietro le quinte. Per cui lo ringrazio tanto della sua gentilezza e della sua vicinanza. Insieme a lui ringrazio Antonella Stasi, di Esperia, che è stata altrettanto vicina. Abbiamo continuato a crederci, abbiamo lavorato con l'animo un po' diciamo così pesante, però abbiamo continuato con quello spirito che ci contraddistingue da sempre, con lo spirito che i miei genitori ci hanno trasmesso dal primo giorno in cui hanno deciso di fare impresa e televisione su questo territorio. C'è grande soddisfazione per noi e soprattutto anche per i complimenti e l'attenzione che c'è da parte dei crutonesi e non solo. 45 anni di attività televisiva sono tanti e importanti, siamo sempre stati un punto di riferimento per quanto riguarda la cultura, la storia della nostra terra e quindi i cittadini ci seguono con attenzione e con amore. Procolo Guida per la Cineus 24.